Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take one man E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Overwatch Oggi siamo in una sfida con Anzo Con Anzo ha avuto intanto già di fare una sfida senza colpi caricati diciamo Sparando a raffica con le frecce ma faceva veramente schifo Ed è praticamente impossibile farlo Quindi ho deciso di fare un Anzo senza la ulti Perché l'ulti è veramente già una cosa che è troppo potente e ti permette di fare quasi chi è sicuro Mentre Anzo è molto difficile da usare Infatti se potete guardare qua No? Ah scusate è quadrato Ha la difficoltà per 3 È già difficile da usare di per sé Quindi lo utilizzerò senza l'assalto del drago Vedremo come andremo Anche perché io con Anzo non mi trovo sempre bene A volte sì, a volte no Vediamo A video Due Reynard, salve Tre Reynard No dai Ho, 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 ho Yoohoo Bella, Engie, bella, bella. Ecco che fine fa la Ultra. Adesso a me ovviamente, no? Hai visto un Lucian a fare andare verso sinistra e segui il lanzo a destra, sicuro. Oh, Genji. Ma vaffa, come? Come hai fatto? Sei fatto con la sventagliata, come mi hai ucciso? Ma non tu, Genji, rompi, coglio. Beh. Ha fatto due mosse in contemporanea, come cazzo? Per una volta l'ho mirata giusta. Ah, però. Ah, come l'ho mancata. No, quella è una mei, oh. Bastardi, in due, in tre mi stanno pushando. No, mi ha visto. Uh. Uh. Come no? Accidenti alla mira automatica. Allora, facciamo così. Uh. Addio. Ma che cazzo? Cacchio facevi lì? Devo avanzare io con Anzo. Io lo faccio anche. Mamma mia, se avessi l'ultra, cosa ti farei? Se potessi usare l'ultra, meglio. Bastardo. Tanto quelli si cagano addosso e vedono un drago salire dalla chiesa. No, mi spiace. Quel mirino è già un po' più difficile. Uh. Ehi, perché non salti? No, non ci credo. Eri già pronto a usare quella mossa? Ti sei trovato davanti a me, ma dai. Ecco, vattene via. Cazzo, speravo non se ne fosse accorto. Come te ne sei accorto? Guarda questo! Ma guarda che stavolta t'ammazzo. Oh, ci siamo ammazzati a vicenda. Sì, soldato. Eh, che cazzo. Alla fara là dietro. Alla, mi sta aspettando. Vabbè, chi se ne frega, ma lasciamola là. E andiamo avanti col carico anche noi. Guarda, lo trasporto io il carico. Ma che ho ammazzato? Vabbè. C'è una star. Adonatevi, io sto spostando il carico. Via! Con che abilità? Ho vinto! Ho vinto trasportando il carico. Ma ti è, ti è, ti è. Afficcatelo su per il culo, Bastian, che sei arrivato alla fine. No! Questa sarà l'ultra migliore al mondo. Che cazzo ci fai dietro di me ogni volta? Uh, Genji, quanto godo! Uh, quanto godo! Mamma mia, ti farei un'ultra qui in faccia giusto per... E' stata fara, vero? Bravissima. Oh! Chi c'ho dietro ovviamente è Genji. Vabbè raga, un'ultra me la permetto. Questa. Quella che non serviva a niente. Col cazzo che ti faccio scuggire. Oh, oh. Ah, ciao. Oh, oh. Sta iniziando a laggare. Sto lanciando due frecci in contemporanea. Ottima idea. Perché devi iniziare a laggare quando faccio sempre un video? Ma chissà perché. Guarda questo qui, che cazzo sta a fare? Dopo una partita laggante, una partita in cui è già incominciata. Vabbè, almeno... Sembra che stiamo vincendo. Sembra. Oh! 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 Alla fine è riuscita a costruirla, davvero. Alla fine. Ollè! Ma quando mai? Ma quando mai? Amico! Non te ne... Tu sei pazzo! Rodoglas, smetti di seguirmi, per favore. No, eh. Quanto perro ha detto di no. Ma quanti mi stanno... Se fai in fuoco a volontà con un Reinhard davanti, però... Ehi! Te l'ho fatta! Un'altra volta! Rodog, hai rotto i coglioni! Nessuno ammazza quel Rodog gigantesco! No, raga, qua mi spiace. Era troppo invitante! Ah, perché ci stanno pushando un Reaper e un... E niente, ragazzi. Se devo lasciare io! Con un'altra volta devo lasciare! Dai, su! Vabbè, un'altra me la sono fatta sfuggire! Era troppo... Bello vedere! Cioè, erano lì, fermi. È ovvio che ne ammazzavo tre! Vabbè, basta così, dai! Ho chusto che possiamo diventare! Grazie.